Questa vi intervista il... Il mogolo di Mazzari, Tattizza? No, lui deve decidere come giochiamo. È importante che tutti danno il massimo in campo, stare uniti, così possiamo vincere una grande cosa. Quindi è molto importante fare sempre un grande sfogliatoio. Questo sempre. Dobbiamo portare ogni giorno, ogni settimana, ogni domenica e siamo contenti dopo con lei. Vi do la possibilità di fare tre domande, non stupide, perché se no non rispondiamo, non facciamo le solite domande, quanto l'avete pagato, quanto guadagna, di cui non gliene frega niente a nessuno. Allora, tre domande. Perché non hai sultato quando hai segnato contro il Napoli? Domanda subita, no? No, 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 ho detto già prima, no? Dopo partita, era per i miei amici, ma c'è un segreto, ma tengo con me, perché voglio così, ma adesso conta Napoli. Grazie. Grazie. La seconda domanda, chi la fa? Ma se non c'è da Modugno. Modugno? Buongiorno, buongiorno, Sky Sport. Siamo su una nave che si salpa per andare lontano, dove? Farò una grande Champions per vincere lo Scudetto. Sì, ogni partita, anche Coppa Italia, è importante. Abbiamo tre competizioni, è bello giocare così, perché ogni giorno, ogni settimana, ci sono belle partite, per cui possiamo guadagnare tre titoli. Giordano, vieni qua. Questi mesi si sono dette tante cose, qualcuna mi risulta anche sbagliata, tipo che non volessi venire a Napoli. La risposta è che sei qui. Ma quando hai deciso di venire a Napoli? Già da lungo tempo, per cui io ho concentrato sempre per le mie squadre, adesso, come detto prima, per me è un nuovo capitolo, una nuova pagina, per cui voglio dare qui il massimo con questo agente, perché ho visto contro Udinese una grande stadio con tante agente, per cui questi tifosi sono adesso dietro a me e voglio vincere qualcosa. Ciao, Giorgio Luca Monti, Gazzetta Ello Sport. Volevo sapere se volevi lanciare per avere un messaggio ad Amsi, Clavezzi e Cavani che ti aspettavi qui di non andare via. Guardate che se vanno via, vanno via solo per gli assist continui che una iettatrice, Gazzetta Ello Sport, sta facendo da circa, ma perché Ibi Aurentis non li vende, che lo ribadisco un'altra volta, quindi la tua domanda è una domanda che rompe soltanto i coglioni. Assolutamente, per esempio la domanda è la giocatore, la domanda è la giocatore perché magari è piacere di giocare con questi campioni. Immaginiamo che tu abbia piacere di giocare con questi campioni. Io dico solo una cosa, Udinese e Napoli sono due squadre che hanno giovani campioni, per cui sono qui con loro e loro sono veramente forti e giocano anche sempre bene, per cui sono contento di essere qui. Perfetto, grazie a tutti. Ora tutti gli ospiti possono regarsi al ristorante mentre il dottor Dorentis e il dottor Bago firmeranno...